La Lega ha lanciato un'OPA decisamente ostile per la conquista della Basilicata, venerdì sera nel Salone Gremito del Parc Hotel, una Lega combattiva e aggressiva pronta allo scontro frontale con il centro-sinistra che da 25 anni governa la Regione. Per la prima volta, visti i risultati di marzo, 5 sedi oltre il 40%, PD sovrata anche dal centro-destra e il governatore Pittella sospeso alla legge Severino dopo due mesi e mezzo di arresti lucidari per uno scandalo alla sanità, scende in campo favorito. Questa Lega mostra inaspettate potenzialità egemonica, vista la presenza in prima fila di un'icona della sinistra come Silvana Arpia, cancellere della Corte Penale Internazionale che persegue i crimini di guerra, magistrato specializzato nella tutela dei diritti umani. Una Lega né razzista né xenofoba, ha sottolineato sessualmente il coordinatore potentino Mario Guarente, come mostra la mia faccia, segnata ai colori forti del sud del Mediterraneo, notevole la presenza di consigliere regionale di sindaci. Sette, tra cui Claudio Borgno di San Chirico Raparo, promotore di una lista civica di primi cittadini che puntava ad esprimere il candidato del centro-sinistra. Nelle scorse settimane la tradizionale rivalità tra i capoluoghi è emersa anche nel Carroccio, con Materano Cappiello, pioniere di noi con Salvini, insentito per il risultato che ha premiato i potentini che hanno eletto al Senato il sindaco di Toro e Pasquale Pepe. Arrivato al Carroccio un anno e mezzo fa, la guida di un utrito gruppo di amministratori locali sindaci, assessori e consiglieri, ben radicati nel nord-est potentino. Lo zoccolo duro e fruscito di Fratelli d'Italia, alle spalle una solidessa sociale, ed è stato capace di costruire una comunità di quali quarantenni che ha dato spazio a tanti militanti del centro-destra insoddisfatti o emarginati dalle logiche miragnose dei vecchi gruppi dirigenti. Così alla fine, anche se il successo del mitico ha intestato principalmente i due consiglieri comunali del capoluogo, Guarenta e Fanelli, le truppe che hanno affollato la sala erano soprattutto ronciali. Questa composizione rispecchia la vecchia lega nord, ben radicata nei territori deboli nella metropoli. Il centro-destra in fermento fatica a trovare l'unità invocata con forza da Roma. Dopo tanti anni di subalternità al centro-sinistra, con candidati presi all'ultimo minuto tra le marginate e gli avversari e pronte al bisogno a tornare in soccorso del vincitore, ora si annusa la possibilità concreta di vincere e in parecchi scappitano. È stato bravo Pasquale Pepe a non mettere il cappello sulla sedia più alta. La discussione è aperta per scegliere il candidato milione dentro la coalizione. Ma il successo del meeting finisce per rappresentare anche un'opera dolce sulla leadership del centro-destra.